Ti ho visto oggi al negozio. Ieri ho perso gli occhiali. Domani vado fuori per cena. Domani devo guidare molto. Ho saputo adesso la notizia. Spesso sono via fino a sera. Domani ci guardiamo un film. L'ho chiamato oggi da casa. Ieri è venuto il tuo amico. Inizio domani con il progetto. Dopo lo diciamo ai colleghi. L'ho visto spesso in macchina. Domani andiamo in vacanza. Ieri ho pulito tutta la casa. L'ho visto oggi in piazza. Ieri pioveva e tirava vento. Finisco domani di fare le pulizie. Dopo te lo porto a scuola. Gli parlo spesso dei miei amici. Domani sarà un bel giorno. Ieri siamo stati al cinema. Un coltello. Dei coltelli. Uno sbaglio. Degli sbagli. Una foglia. Delle foglie. Un salotto. Dei salotti. Uno zio. Degli zii. Una cucina. Delle cucine. Un dottore. Dei dottori. Un bagno. Dei bagni. Una camera. Delle camere. Una bottiglia. Delle bottiglie. Una sedia. Delle sedie. Una tavola. Delle tavole. Un bicchiere. Un bicchiere. Dei bicchieri. Dei bicchieri. Un cucchiaio. Dei cucchiai. Un cucchiaino. Dei cucchiaini. Un cucchiaino. Una forchetta. Una forchetta. Delle forchette. Un coltello. Dei coltelli. Uno gnocco. Degli gnocchi. Un'auto. Delle auto. Un amico. Degli amici. Un amico. Devo andare al bagno. Ho il biglietto nella borsa. Noi lo teniamo in tasca. Luca lo cerca sotto il sedile. Forse lo ha perso al bar. Il treno viaggia sui binari. Noi scendiamo dal treno. Il treno va a Palermo. Palermo è in Sicilia. Io viaggio in macchina. Alcuni stanno in piedi. Nessuno sta nei corridoi. Altri siedono nelle stanze. Noi camminiamo sul ponte. Voglio uscire di casa. Sono laureato in medicina. Noi lo sappiamo da poco. Luca ci chiede di aiutarlo. Puoi dirlo a tua mamma. L'auto viaggia sull'asfalto. Noi saliamo sulla bicicletta. Noi saliamo sulla bicicletta. Noi saliamo. Grande e piccolo. L'elefante è grande. L'elefante è grande. Il topo è piccolo. Il topo è piccolo. Scuro e chiaro. La notte è scura La notte è scura Il giorno è chiaro Il giorno è chiaro Vecchio è giovane Il nonno è vecchio Il nonno è vecchio Il nipote è giovane Il nipote è giovane Bello è brutto La farfalla è bella La farfalla è bella Il ragno è brutto Il ragno è brutto Grasso e magro Quel gatto è grasso Quel gatto è grasso Mio nipote è magro Mio nipote è magro Caro e economico L'auto è cara L'auto è cara Il libro è economico Il libro è economico Carlo è nato a Milano In Italia È italiano Abito ad Atene In Grecia Sono greca Luca non è tedesco Ma va a Bonn In Germania Lui viene da Londra In Inghilterra È inglese Claudia è di Parigi In Francia È francese Roberto è di Berna In Svizzera È svizzero Lidia abita ad Algeri Ma non è algerina Chi è nato a Palermo È un palermitano Chi è nato a Firenze È fiorentino Sua zia è giapponese Viene da Tokyo Carlo è di Milano E lavora in Svizzera Mario viene da Firenze In Toscana È toscano Claudia abita a Madrid In Spagna È spagnola La Germania è in Europa È un paese europeo Appena lo incontri Dìgli di telefonarmi a casa Luca insiste Finché non ottiene ciò che vuole Quando furono tornati Andarono a dormire Dopo che furono tornati Andarono a dormire Quando hai telefonato Lei era già andata via Prima che tu lo venga a sapere Da lui Te lo dico Non guarirai Finché non faremo un viaggio Quando decidete di uscire Fatemelo sapere Non passerà l'esame Non passerà l'esame Finché non si impegnerà Dopo che fu uscita di casa Vide un'auto rossa Si addormentò Prima che il film Terminasse Appena ebbe finito di cenare E beve un caffè Quando arriverà l'estate Andrò in vacanza Ho studiato Finché mi sono addormentato Dopo che ebbi fatto la spesa Iniziai a cucinare Io parlo Tu parli Lui, lei parla Noi parliamo Voi parlate Loro parlano Io vendo Tu vendi Lui, lei vende Noi vendiamo Voi vendete Loro vendono Loro vendono Io dormo Tu dormi Lui, lei dorme Noi dormiamo Voi dormiamo Voi dormite Loro dormono Loro dormono Noi finiamo Noi finiamo Voi finite Loro finiscono Loro finiscono Non abbiamo Non abbiamo Né vino Né acqua Nessuno Sa ballare Come me Non mi compri Mai nulla Allora Non ci vieni Neanche tu Non si sente Nessuna notizia Non ho fatto niente Oggi Non mi piace Questo quadro Sono noiosi Non escono mai Non ho mai letto Quel libro Non l'ho fatto Mica adesso Non gli ho detto Ancora nulla Non hai letto Nessun libro Non mi piace Nessuno dei due Non ci hanno Nemmeno risposto Non ci avete Preparato nulla Non gli ho Parlato di niente Non vediamo Nessuno qui Non c'è più niente Da fare Non ho affatto Detto questo Non ho mangiato Che le lasagne Non mi ero Ancora svegliato Oggi Non ho neppure Cenato No Non ci ho mai pensato Non voglio Né il caffè Né il tè Questo non è affatto vero Credo che non venga nessuno Se sei stanco Vai a letto Se nevica Non vado a passeggiare Se non si sbriga Perde l'autobus Se bevi così tanti caffè Ti innervosisci troppo Se vieni a trovarmi Ti dico le ultime novità Se partiamo subito Non troviamo sicuramente traffico Se vai in città Dimmelo che vengo con te Se tornate in tempo Mangiamo insieme Se questo libro ti piace Te lo regalo Se ha la febbre Deve rimanere a letto Se studierai di più Riuscirai a preparare più esami Se a Natale Avremo un po' di ferie Andremo a sciare Se mi promette che guiderà piano Andrò in macchina con lui Se la prossima settimana sarò ancora malata Andrò dal dottore Se saranno buoni Li porterà Al parco Se avesse più tempo Rimarrebbe qualche giorno in più a Roma Se Pino ascoltasse i suoi consigli Si troverebbe meglio Se non prendesse l'ombrello Si bagnerebbe completamente Se gli esercizi non fossero così difficili Finirebbe prima i compiti Se non avesse un altro impegno Ti chiamerebbe volentieri Claudia leggeva molti giornali I miei genitori parlavano sempre spagnolo Io stavo in macchina mentre aspettavo Noi mangiavamo la pasta tutti i giorni Loro festeggiavano ogni sabato sera Voi ballavate molto durante le feste Mio cugino viaggiava con l'aereo Le bambine giocavano con le bambole Io e te ascoltavamo la musica classica Lui frequentava la scuola tedesca Tu e loro correvate sul campo da calcio Il mio amico sapeva tante cose Giorgio si svegliava sempre tardi La lavastoviglie funzionava male La lavastoviglie funzionava male La lavastoviglie funzionava male Grazie a tutti